bella regà qua è Savix che vi parla in compagnia del Griggs ragazzi e benvenuti se siete nuovi nel canale oggi un video simpatico per fare uscire di testa la gente mentre si combatte otr infinito ragazzi quindi requisiti aver fatto le missioni del freak shop avere sbloccato il freak shop e avere il freak shop una volta che siamo all'interno del freak shop ragazzi dobbiamo dirigerci lì davanti al nostro bricade praticamente una volta che siamo all'interno semplicemente apriamo il nostro telefono andiamo a richiedere un'attività dal nostro simeon dal nostro pelatone ragazzi che fra qualche anno faccio la sua fine pure io comunque sia non ci incistiamo e continuiamo una volta che abbiamo richiesto l'attività di simeon e ci è arrivata e l'apriamo nel telefono ragazzi dobbiamo fare il trick come quello del caso bogda quindi andiamo davanti all'entrata del bricade dove si entra nell'ufficio ragazzi nel laboratorio di acidi apriamo il nostro telefono e ci mettiamo dentro il cerchietto blu con l'attività di simeon aperta a questo punto dovremmo tenere il menu di pausa quindi option premuto rilasciarlo e cliccare il tasto a o x se giocate da ps il risultato ragazzi è che dovete aprire il menu di pausa ma prima che si apre dovete accettare l'attività di simeon a questo punto dovete andare ad avviare l'attività missioni un lavoro da titano ragazzi se quando avviate l'attività un lavoro da titano vi farà questa schermata glicciata quindi sfondo nero sotto l'attività ragazzi vuol dire che vi siete bagati nella maniera corretta a questo punto una volta che siamo in questa schermata semplicemente l'acquittiamo quindi b e a per uscire oppure ragazzi cerchio e x se giocate da ps a questo punto una volta che quitteremo l'attività ragazzi saremo in questa schermata nera a questo punto ragazzi dobbiamo dire al nostro amico di avviare un lavoro da titano quindi start missioni un lavoro da titano ragazzi e ci facciamo invitare dentro la lobby quando siamo dentro la lobby ragazzi gli diciamo al nostro amico di buttarci fuori quindi dovrà andare il nostro amico visualizza giocatori entrati e ci dovrà espellere dall'attività e risultato che quando spawneremo saremo off rider e quindi sbada bam c'è solo un piccolo difetto la minimappa non serve a un cazzo raga perché è tutta sfasata noi risulteremo all'interno del freak shop per gli altri giocatori e gli altri player invece saremo in giro per la mappa saremo off rider e non ci potranno vedere non potremo prendere nessun tipo di veicolo ragazzi ma potremo andare in giro per la mappa a sparare e a rompere a cazzo nessuno senza che ci vedano quindi off rider infinito raga spero che i miei video vi piacciono lasciate un like lasciate un commento supportate xavix condividete i miei video ragazzi e ancora di nuovo buon anno e felice anno nuovo grazie a tutti